Sono molto vicina a questa problematica, in parte perché l'ho studiata, in parte perché il sindrome della vergogna di sé fa parte di una problematica psicologica a me nota. Io parlerò invece, ringrazio prima di tutto Cubedo, gli amici della Fondazione Sardegna, mi scuso, eccetera, e vi dico subito che più di una relazione propongo anche io una riflessione preliminare. Il tema di questa riflessione, dopo che abbiamo parlato di vergogna, dopo che abbiamo parlato di invidia, è invece un tema, diciamo, in un certo senso positivo. Il tema di questa riflessione è il tema della creatività dei sardi, esplorata però dalla mia prospettiva disciplinare. Sono stata sempre affascinata dal fatto che i sardi abbiano espresso nel tempo una grande creatività. una creatività in un certo senso insolita, inattesa, quasi misteriosa per certi versi. Adesso dopo la relazione di Placido ne vedo forse delle implicanze diverse. Mi sono comunque sempre domandata come mai un gruppo umano così scarso dal punto di vista democrafico. Così sparso su un territorio e così isolato, avesse potuto esprimere tanti talenti creativi nei diversi campi del pensiero dell'arte. È vero, noi non abbiamo avuto un grande filosofo, non abbiamo avuto un grande autore di teatro. Riflettevo a questo, quando imparavo questa piccola introduzione per voi. Però abbiamo sempre, pur sempre, prodotto Gramsci, Antonio Gramsci. La Sardegna, meglio dirò soprattutto una sua peculiare area, non si è limitata infatti a produrre un'unica grande personalità creativa. Se avesse dato i Natali solo, per esempio, a Grazia De Leda, premio Nobel per la letteratura, o a Gramsci, l'autore più letto, attualmente più letto nel mondo, o a Salvatore Satta, riconosciuto come un grande romanziere europeo, sarebbe potuto nascere sempre il dubbio che quel fatto fosse casuale, creato per motivi eccezionali, quasi staccato da un contesto, per una combinazione irripetibile di variabili, di fattori. Mentre il miracolo, diciamo così, si è ripetuto, e il manifestarsi di questa ripetitività creativa, con personalità creative e riconosciute, spinge a ricercare la radice di questa creatività in un altro ordine di pensieri e di spiegazioni. Questa creatività dei Sardi risulta ancora più sorprendente quando si consideri che si concentra, come diceva, in una particolare zona, non è legata alla città, ma è legata a una particolare zona, e quindi un'area demograficamente ancora più ristretta, ancora più isolata. E questa zona è una zona conosciuta in Sardegna, una zona studiata. Io stesso ho iniziato i miei primi studi sistematici sulla Sardegna proprio da questa zona. Sono gli studi, che voglio soltanto richiamare qui brevemente, sull'isolamento, cioè sulla Sardegna interna, Sardegna rurale, e sono studi che hanno preceduto la relazione alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della criminalità. E in quella sede il gruppo che faceva capo alla rivista Sarda di criminologia indagava sugli aspetti criminogenetici di quella zona. E quindi la mappammo, questa zona, con delle metodologie molto complicate, astruse, avvalendoci anche di competenze di matematici, di studiosi statistiche di matematici, e seguimmo tre diverse metodologie. Quello che è interessante è che comunque, studiata con diverse metodologie, in particolare tre molto particolari, dava sempre una stessa area. Cioè l'area dell'isolamento in Sardegna disegna un triangolo la cui base è nella costa orientale dell'Ogliasta e della Baronia e il cui apice e due lati del triangolo convergono verso il Montiferro. Nel mezzo c'è il massiccio montuoso, il Gennargento e gli altipiani centrali. Quella è la massima zona di isolamento in Sardegna. All'interno di questa area cadono i fenomeni, come è noto, di criminalità rurale, in particolare pastorale, e però cadono anche le massimi tassi di psicopatologia, in particolare di depressione. Partendo da questo tipo di ricerca, che poi si è articolata anche con le ricerche sull'emigrazione, in cui potei osservare lo stesso un abbinamento di fenomeni. Cioè che gli emigrati sardi che provenivano dalle zone cosiddette interne, da quel famoso triangolo, erano quelli che esprimevano i maggiori tassi di rischio psicopatologico durante l'emigrazione, ma erano anche quelli che dimostravano la maggiore tendenza creativa e anche ad una leadership durante l'esperienza dei migratori. Quindi, su base di questa base e altre che adesso sarebbe lungo qui richiamare, si può forse ipotizzare che proprio la radice della creatività in Sardegna potrebbe essere correlata o correlabile con il tema depressivo. Devo dire che il problema della depressione, così come io stasera lo affronterò, affronterò questo binomio creatività-depressione, nel suo risvolto sardo, così come si manifesta nella nostra isola, non deve essere preso in senso psichiatrico, cioè come malattia depressiva o una psicosi depressiva, ma come esperienza più generale, in senso antropologico, esistenziale, come esperienza, diciamo così, di perdita, in senso culturale, generale. Anche sarebbe lungo qui definire la personalità creativa. Dirò che sono stati fatti molti studi e che sono stati individuati molti tratti della personalità creativa. Ci sono degli studiosi che sono giunti a individuare addirittura 70 tratti che comporrebbero il profilo della personalità creativa. Ogni impostazione, sia essa analitica o sistemica, sul tema della creatività, poi porta a una definizione della personalità creativa, che sarebbe lunghissimo qui richiamare. Però è interessante notare che quasi tutti gli autori concordano su alcuni punti, e cioè che la personalità creativa è quella che dispone, l'uomo creativo è quello che dispone di una particolare forma di intelligenza, che ricerca soluzioni nuove, crea delle forme, dei pensieri, delle idee originali. Cioè l'individuo creativo è certamente intelligente, ma è dotato in particolare di una forma specifica, sarebbe dotato di una forma specifica di intelligenza, in cui prevale per esempio il pensiero sull'aspetto della memoria, in cui prevale nel pensiero, prevale più che la valutazione e altri aspetti, prevale la produzione delle idee. E in questa produzione delle idee, nella personalità creativa, prevale quello che un grande studioso ha definito il cosiddetto pensiero divergente. Cioè il creativo farebbe particolare uso di questa modalità di pensiero. Che cos'è questo pensiero divergente? E' anch'esso stato studiato, è stato definito, categorizzato, ma in sostanza si riduce a questo, che il pensiero creativo è la forma di pensiero più alta ed elaborata che arriva alla formazione di concetti nuovi. In base a questo pensiero divergente, produttivo, creativo, come lo possiamo definire, si sono determinate appunto anche nella storia della cultura, della civiltà, delle personalità, dotate appunto di una creatività straordinaria, ai quali noi dobbiamo, diciamo, le innovazioni della cultura e della società. E di qui anche il rapporto tra personalità creativa e valore sociale di questa creatività. Allora, partendo da queste premesse definitorie che ho dovuto dare in forma così sintetica, che potrebbero poi successivamente essere approfondite, vediamo come, che risposta è stata data, non tanto alla valutazione e alla misurazione di questa creatività, quanto alle ricerche che hanno tentato di valutare e di verificare l'ipotesi se la creatività si potesse correlare alla depressione. Cioè, il creativo va incontro a delle depressioni, la depressione come agisce sulla personalità creativa, slatentizza delle sue potenzialità oppure lo inibisce. Questi due fenomeni sono legati tra di loro e quale verifica scientifica si può dare? E inoltre, queste due variabili, creatività, grandi variabili, costellazioni, si dovrebbe dire variabili, la creatività è una parte e la depressione, come si legano in Sardegna? Ci sono state verifiche in questo senso e quindi siamo autorizzati ad emettere l'ipotesi che una delle possibili radici della nostra creatività è appunto proprio la depressione. Dobbiamo dire che nella storia del pensiero da quando l'uomo ha potuto osservare l'uomo le massime oscillazioni dell'umore sono state tra loro correlate e perciò si è spesso fatto il famoso binomio di genio e follia, per esempio, due eccessi che sono stati dal pensiero. Noi possiamo risalire alla storia proprio della nostra cultura e civiltà, il rito dionisiaco, ma il mondo classico anche esso ha elaborato un suo punto, il mondo greco prima, il mondo classico, il Medioevo che è indifferente a questa problematica, il Rinascimento in cui l'interesse per questo binomio si risveglia, non a caso nel Medioevo avviene la prima distinzione tra i melancolici passivi che non producono idee, pensieri e i melancolici creativi e poi l'epoca dei Lumi a cui Placido si riferiva in cui il talento, invece, la personalità creativa è appoggiata solo al pensiero razionale fino al periodo romantico e ai nostri tempi. I nostri tempi il pensiero di questo binomio la valutazione, l'analisi di questo binomio avviene sulla base di una valutazione scientifica. Esiste anche una letteratura che ha tentato di verificare questo più vicino a noi nel secondo dopoguerra in particolare che il rapporto possa sussistere tra creatività e depressione. Le strade che il pensiero scientifico ha scelto per stabilire la veridicità di questa correlazione sono essenzialmente di due tipi. Da una parte le cosiddette ricerche biografiche e dall'altra le ricerche cosiddette sistematiche o sistemiche. La ricerca biografica ha fatto in generale riferimento alla ricostruzione di biografie di personalità creative ed è andata la ricerca se nella loro vita queste personalità creative erano andate incontro a disturbi repressivi. E così abbiamo i profili di Michelangelo, di Van Gogh, di Kafka e di tanti altri geni che appunto di Martín Lutero eccetera personalità indubbiamente creative che hanno sofferto nella loro vita di gravi disturbi depressivi. Michelangelo. Più recentemente in America è stata fatta una ricerca molto interessante che ha fatto una lista è partita dalla selezione con criteri molto selettivi e rigorosi di una lista dei grandi poeti americani del Novecento. Tramite questa metodologia scientifica molto precisa ha incluso in questa lista 39 grandi poeti. avvalendosi avvalendosi di criteri molto specifici si è visto che un quinto questa ricerca ha dato dei risultati sorprendenti cioè un quinto di questi grandi poeti era andato incontro a gravi disturbi affettivi. Aveva subito ricoveri specifici in strutture psichiatriche e soprattutto il 63% di questi grandi poeti sofferenti aveva avuto una malattia di esito in fausto in quanto il 63% di questo gruppo di poeti malati era morta per suicidio. Quindi questa ricerca ha verificato l'ipotesi di base ma ancora più interessanti sono alcune ricerche sistematiche che si sono avvalsi di una metodologia molto rigorosa molto specifica con strettamente sperimentale. Sono criticate infatti alcune anche interessanti ricerche ma che non si sono avvalsi di una di una metodologia che resistesse a delle critiche. La Andreson è una studiosa che lavora in università americana con un criterio molto specifico ha raccolto 30 grandi scrittori americani che avevano riconosciuto fama alcuni di questi avevano vinto il premio Pulitzer quindi il massimo riconoscimento letterario americano altri tutti avevano avuto altri riconoscimenti minori ma tutti questi scrittori erano antologizzati in un New Oxford Book si chiama un'antologia molto selettiva americana in cui entrano solo gli narratori gli scrittori di riconosciuta fama. questi 30 scrittori sono stati confrontati con un gruppo di controllo di altre 30 persone non creative diciamo così omogene per sesso età e livello di istruzione questo confronto gruppo creativo gruppo normale diciamo così ha dato i seguenti risultati solo i creativi avevano una storia molto tormentata di crisi depressive i creativi erano stati curati per malattie depressive anche in strutture psichiatriche specifiche e siccome la ricerca prevedeva anche l'estensione dell'osservazione alle famiglie e quindi ai nuclei familiari si sono confrontate le famiglie del gruppo creativo con le famiglie del gruppo normale di controllo questo confronto dei nuclei familiari ha messo di nuovo in evidenza che solo i creativi avevano una storia familiare di depressione però avevano anche una storia di personalità creative nella loro famiglia il che fa supporre che la trasmissione della creatività sia possa essere determinata o nel suo risvolto anche depressivo sia non soltanto una trasmissione biologica ma una trasmissione anche educativa familiare e quindi culturale queste ed altre famose ricerche come quella della Jameson in particolare che ha studiato invece personalità creative inglesi compresi scrittori per il teatro poeti eccetera e queste ricerche ugualmente fatte con gruppo di controllo con diagnosi molto precise eccetera ha confermato il legame tra depressione e creatività allora ciò premesso se esiste un legame scientificamente sostenibile e verificabile tra personalità creativa e depressione come una grande ormai mole di dati sembrerebbe accertare dobbiamo chiederci quali meccanismi della depressione possono o meglio possono agevolare in un certo senso determinare o slatentizzare i comportamenti creativi questo discorso ci porta su un terreno altrettanto complesso se non più complesso del precedente che anche quello è complesso dal punto di vista metodologico eccetera allora come può la depressione agevolare la creatività e quali sarebbero diciamo gli elementi di questo discorso emergenti a questo discorso che potrebbero essere applicati alla situazione sarda alla creatività sarda come dicevo qui si scivola sul terreno insidioso delle interpretazioni che sono praticamente infinite perché tutte le interpretazioni della depressione sia essa semplici sia essa nei risvolti della maniacalità della bipolarità potrebbero essere piegati teoricamente piegate alla spiegazione della creatività allora io ho scelto solo l'interpretazione psicodinamica perché di questo mi sono in passato occupata e perché da me meglio conosciuta e perché storicamente la psicanalisi è l'indirizzo che ha dato maggiore accordato maggiore interesse al problema della creatività anzi con la psicanalisi si avanza una dimensione nuova una dimensione ermeneutica della psichiatria che cerca di vedere più profondamente in tutta l'attività dell'uomo compresa la sua attività artistica spirituale eccetera quindi con Freud noi abbiamo l'avanzare come Placido Kierke sa bene inizia una nuova fase del pensiero che propone un modello nuovo di interpretazione dell'opera d'arte interpretazione che da una parte utilizza un metodo particolare che è il metodo biografico contenutistico dall'altra include in questa sua visione l'atto creativo la produzione creativa e il suo stesso creatore Freud accordava sappiamo uno statuto speciale all'opera d'arte fu di stesso un discreto intenditore d'arte e per un breve periodo anche collezionista di opere d'arte Freud influenzò enormemente il secolo in cui visse che è stato chiamato come vi sapete il secolo psicoanalitico e per quanto riguarda un discorso più vicino al tema che qui si propone e cioè l'aspetto della creatività nel suo risvolto depressivo devo richiamare che Freud valorizza un particolare processo psicologico per spiegare la creatività umana Freud cioè per primo stabilisce la radice del lato creativo della creatività nell'inconscio l'attività creativa altro non è secondo Freud che un sogno ad occhi aperti cioè nel lato creativo l'individuo mette in atto gli stessi procedimenti che l'individuo attua nel sogno cioè l'attività onirica come espressione di quello che possiamo chiamare il processo primario cioè dell'inconscio che si manifesta nel sogno nell'individuo adulto e maturo si ha questo sogno ad occhi aperti che è appunto l'opera d'arte l'opera d'arte è un sogno ad occhi aperti nel senso che pensava Freud risultato di un processo sublimatorio cioè l'individuo farebbe uso delle stessi meccanismi del sogno per appagamento di un desiderio quindi entra un processo diciamo così di desessualizzazione del dell'impulso fino a arrivare alla produzione artistica ma anche la produzione scientifica la vocazione religiosa hanno per Freud sempre questa origine sono delle deviazioni diciamo così per così dire deviate della pulsione del trib sessuale cioè inizialmente il bambino ha spinto verso il soddisfacimento del bisogno verso una curiosità sessuale nell'individuo maturo in alcuni casi questa energia libidica può essere desessualizzata e deviata verso fini e oggetti e fini diversi da quelli primari e che sono socialmente utili tanto per fare un esempio banale se noi vedessi diceva un tempo che le zittelle che si occupavano dei bambini avevano sublimato il desiderio di una maternità mancata il questa impostazione per quanto non soddisfacente ha però un valore enorme da un punto di vista storico perché apre una grande strada di pensiero e devo anche annotare che benché Freud avesse gettato questo sguardo assolutamente originale divergente su un tema che non era fino allora assolutamente preso in considerazione la psicologia della psichiatria tuttavia riconosce che tra la condizione depressiva che può favorire l'opera d'arte come motivazione nel senso che il depresso più vicino alla conflittualità rispetto a un soggetto normale può essere motivato a risolvere il proprio conflitto esprimendosi artisticamente però fu talmente onesto da non supporre mai arrivare mai ad una identificazione tra prodotto nevrotico e prodotto artistico perché rimane un oiato per Freud in quanto la depressione come tale non può determinare un'opera d'arte in quanto non è un risultato diretto immediato ma è l'effetto di un risultato più complesso siamo e qui lo richiamo anch'esso un pensatore completo complesso e completo ma che può avere un risvolto per la per l'interpretazione della creatività dei sardi ed è Jung che eredita da Freud l'interesse per l'opera d'arte e per la creatività artistica per Jung però che conserva il concetto che l'arte affonda la propria radice nell'inconscio l'inconscio per Jung non è soltanto un inconscio individuale quindi l'artista fa riemergere non solo i vissuti e le esperienze del proprio inconscio personale che fanno parte della sua storia diciamo privata ma attinge da un serbatoio più ampio e più universale che è appunto l'inconscio collettivo l'operare artistico e il riemergere di esperienze collettive che si concretizzano si condensano in immagini primordiali arcaiche che Jung chiamava archetipi per la concezione freudiana scusate junghiana l'artista percorre due modalità creative una modalità psicologica che si avvale delle comprensione normale cioè metterà nel suo romanzo un intreccio gli amori eccetera e finalizza il racconto la trama l'organizza a degli scopi scopi coscienti ma la più importante delle modalità per Jung non è questa modalità psicologica che si svolge sul palcoscenico della coscienza ma quella che gli chiama la modalità visionaria quando parlava Placido ha fatto un breve accenno a questo dunque io nell'opera d'arte sarda trovo molto prima di tutto una presenza molto insistita dell'archetipo nell'isola dei coralli io faccio un commento ad una figura archetipica che ha una pregnanza per me straordinaria che è la grande statua di Francesco Ciusa che è la madre dell'ucciso l'uso un grandissimo conoscitore di case sarde il più grande forse conoscitore di case sarde diceva che la madre dell'ucciso di Ciusa altro non è che una raffigurazione che si pone in una linea di continuità con la madre il bronzetto nuragico che tiene nel caso del bronzetto il figlio ucciso in grembo e certamente questa linea di continuità direbbe Jung è una linea che percorre l'inconscio collettivo a cui l'immagine archetipica è strettamente e indissolubilmente connessa ma c'è un altro aspetto della creatività sarda che potrebbe agevolmente essere interpretata in termini junghiani ed è la modalità visionaria quasi tutti gli artisti sardi io trovo hanno questa tensione visionaria giustamente Bandino ha scritto un libro su riflettere i sogni questa volta sulle visioni titolato visiones in alcuni casi questa modalità è una modalità quasi di ufuscamento che non riesce a sollevarsi a raggiungere un livello diciamo di grande valore artistico è più inquinata quasi da un'incapacità di discriminare tra una realtà interna ed esterna ma dove questa tensione visionaria io credo che raggiunga il massimo della sua tensione raggiunge il massimo dell'intensità artistica e quel grandioso e quel fantastico eccezionale romanzo che è il giorno di giudizio di Satta nel giorno di giudizio di Satta questa febbre visionaria investe per così dire questa gente di nuoro sospesa nell'attesa del giudizio e la illume prima di farla precipitare nel silenzio nel cono d'ombra del silenzio la illumina la definisce quasi la folgora per poi farla scompanire ma questo momento illuminante visionario ha la forza di contrapporsi addirittura al sanator che è la morte che è secondo che Satta ricordiamolo è eterna ed effimera in Sardegna e nello stesso tempo di collocare quest'opera in una dimensione universale un ultimo punto vorrei qui richiamare che ugualmente secondo me ha molta capacità diciamo di spiegazione della creatività sarda è che la concezione kleiniana qui Bacchisio parlava all'inizio del tema dell'invidia un tema kleiniano di cui io mi sono occupato per molti fenomeni che sono presenti in Sardegna per me anche non solo nella produttività industriale nell'imprenditoria nei fenomeni economici può essere invocato il tema dell'invidia ma per me il tema culturale il pattern culturale più caratteristico della nostra cultura è stato detto che è la vendetta ma io ritengo che l'invidia sia il pattern culturale dominante in Sardegna che io interpreto in termini kleiniani anche nel sequestro di persona c'è un elemento invidioso nell'annullamento dell'ostaggio nelle nella volontà di annullamento e di rendere non più pregiato l'oggetto io trovo una componente invidiosa molto molto pregnante ritornando alla Klein la Klein si occupò poco dei problemi della creatività umana se ne occupò soltanto in uno studio però la sua teoria è capace di dare delle strade nuove di interpretazione della creatività e in particolare di questo legame che abbiamo ipotizzato del rapporto tra creatività e depressione perché per la Klein fondatrice della scuola di psicanalisi inglese la scuola inglese di psicanalisi la depressione la creatività e la depressione sono contigui nascono in un'unica stagione nell'evoluzione della persona ed è in quella stagione che lei chiama posizione depressiva in uno stadio di sviluppo della personalità cioè l'individuo in un primo tempo il bambino e soltanto vede e coglie degli oggetti parziali bisogna che faccia un altro salto maturativo per poter cogliere l'oggetto che è la madre nella sua totalità quando ha fatto questo lavoro poi introietta alla figura materna nella propria interiorità ma proprio quando noi riusciamo a conquistare diciamo così il primo oggetto si mettono anche in moto dei meccanismi delle meccanismi delle ansie delle angosce e quindi delle difese che noi cerchiamo appunto di controbattere per la Klein e quindi la nascita del simbolo e la nascita della creatività deve essere collocata in questa particolare stagione la radice e questa stagione originaria in cui c'è questo vissuto di perdita quindi quindi creare è dettato dalla necessità di ricreare questo oggetto che noi temiamo perduto quindi creare è sempre ricreare cioè creare nuovamente qualcosa che noi temiamo perduto io ritengo che questa ipotesi che la creazione artistica in particolare la creazione dei sardi sia una modalità di risposta del superamento di qualcosa che noi abbiamo perduto che temiamo perduto e degradato mentre parlava Placido sulla sindrome di vergogna di sé quindi questa scarsa autostima che noi abbiamo di noi stessi che ha motivi storici come culturali come lui diceva sono tutti correlati questi o cognitivi o emotivi della depressione quindi noi quando non riusciamo cadiamo in depressione cadiamo nella malattia cambiamo nella vergogna di noi stessi cadiamo nell'offuscamento della nostra identità quando riusciamo a metabolizzare il lutto per la perdita per la sofferenza di cui la nostra storia non è stata certo avvara riusciamo a fare delle opere d'arte straordinarie io vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti